Amici di Sport Perugia TV, bentornati nel nostro salotto per parlare di Perugia Calcio. Se avevamo qualche speranza dopo la vittoria con la regina, la vittoria di Reggio Calabra, ecco subito che arriva l'ennesima prestazione scadente in casa contro il Cittadella. Arriva l'ennesima brutta sconfitta per 0-2. Per parlarne oggi abbiamo qui il nostro Roberto Arcangeli alla mia destra e alla mia sinistra Danilo Tedeschini. Buonasera a tutti, a te Nicolò e complimenti per la laurea. Grazie, grazie. Partiamo con una nota positiva perché se no dopo, capito, ci intristiamo troppo. Un saluto a Roberto. Senti Danilo, puoi raccontarci brevemente per sommi capi la gara del Curi e soprattutto cosa non ci ha fatto vedere il Perugia perché ci aspettavamo sicuramente di meglio. La gara del Curi è stata la fotocopia delle precedenti gare. Ormai è un cliché acquisito. Dopo un quarto d'ora siamo sempre sotto 1-0. La squadra avversaria parte sempre col vantaggio. E poi ruminiamo calcio, non riusciamo più a venirne fuori. Con qualche squadra al limite avevamo pareggiato, anche se magari temporaneamente, per poi risubire il gol, tipo col Pisa e con il Suttirollo l'ultima volta. Ieri niente, ieri niente, nel vero senso della parola. Quante occasioni si contano? Nessuna. Abbiamo fatto due tiri in porta centrali, uno con Melchiorri che cercava di ripetere un po' l'azione che aveva portato al gol contro il Suttirollo, però il tiro è uscito centrale, quindi facilmente parato. E uno nel recupero del secondo tempo, una bella semirovesciata di Luperini, però finita in mano al portiere, è ben piazzato. Diciamo che è stato l'unico sussulto della partita questo. Per il resto veramente un pianto greco. Non c'è stato un reparto che funzionasse. La difesa, abbiamo subito il gol con uno svarione di sgardi. Proprio un'involuzione di sgardi totale rispetto al scorso anno. Totale. Io ho fatto le pagiade, l'ho anche scritto. È riconoscibile rispetto alle stagioni scorse. La fascia di competenza di Paz è diventata terra di conquista per gli avversari, che creano sempre le occasioni, anche ieri con Cittadella, partono sempre da quella fascia. Non me lo voglia il ragazzo, che però io lo trovo un pesce fuori d'acqua. Ormai gli allenatori ci studiano, lo sanno e puntano sempre lì. Questo è poco ma sicuro. Centrocampo, l'ho scritto anche nell'editoriale, facciamo giocare, non abbiamo più i play, perché Burrai a Perugia non lo volevamo più. Non so perché, non andava bene. Non lo volevano più. Appunto. Già mi piace di più. Ci gioca Bartolomei, che non è un play, anche se l'ha fatto qualche volta a Cremona, perché è una mezzala, quindi fuori ruolo, gioca male e diciamo che il centrocampo ne risente. A fianco di Bartolomei c'è Luperini, che fa solo la fase offensiva, perché non copre, non rientra e quindi il centrocampo è spesso sguarnito. E l'altro centrocampista, Santoro a Reggio, e ieri Iannoni si fanno buttare fuori con tutto un tempo da giocare in modo puerile, perché gli abbi saranno anche severi. Anche ieri Minelli, Castellino Giallo secondo, poteva anche risparmiare. Ma tu vai, già ammonito, a fare un fallo in attacco che poi ha scaturito l'espulsione. Io, sapendo poi, perché tu curi una rubrica in cui presenti gli arbitri della settimana, no? Ora, santi dirico, ma voi, castori e giocatori, che lo fate per professioni profumaticamente, tra virgolette, tanto profumatamente, no? Ma comunque, pagati. Ma volete studiare, oltre agli avversari, come sono gli altri? Minelli, che qualcuno definisce Frankenstein, perché si sa che è così. Minelli è schizofrenico, ormai sono dieci anni, credo. Sì, abbiamo 12 precedenti, con lui 13, con quello di ieri. E qui è uno che fa dal cartellino facile, dal rigore facile, anzi ieri non l'ha dato. E qui, dalle munizioni, bisogna starci attenti. Questa è la bici del calcio, delle regole. E poi ci meravigliamo che siamo ultimi. Non funziona niente. L'attacco, di sei attaccanti ce n'abbiamo uno, discreto. Ieri ci ha provato, ha fatto, ma quantomeno i rinvii della difesa sui famosi lancioni, finché è stato in campo, erano tutti suoi, di testa. Anticipava sempre gli avversari. Dopo è uscito, è entrato di Carmine, che è tra fuori gioco e falli, ha fatto la solita prestazione. Gli altri, di serio, ancora c'è Erbo. Olivieri ha giocato contro voi a tre minuti, si è visto da quando è entrato. Certo, certo. E poi è l'unico che ha la capacità di saltare l'uomo chiamato, se fuori da tempo. Strizzolo, se è dato da fama. Molta confusione. Molta confusione in attacco. La difesa, oltre a Sgarbi, è pazzo, abbiamo detto. Casasola, dall'altra parte, non è che abbia brillato. L'unico è dell'orco, perché curato ha alternato cose buone a cose meno buone. Molto meno buone. Insomma, la situazione è drammatica, sportivamente parlando, perché ho scritto sull'editoriale di stamattina, la Rondine non fa primavera. La Rondine di Reggio non ha fatto primavera, non è arrivata a quella prestazione che ci aspettavamo. Dopo di questo passo si parla del mercato di gennaio, ma rischiamo di arrivarci in maniera veramente compromessa. Esatto, comprometti tutto. Perché se andiamo a vedere il calendario di adesso, ci aspettano due trasferte consecutive. Ci arriviamo, ci arriviamo. Cioè, come fai? Tutta la puntata in un intervento? No, finisco. Insomma, la situazione non è bella, te lo confermerà. Anche Roberto, che in genere è più ottimista di me. Va bene. Roberto, ha analizzato abbastanza bene e saustivamente, Danilo, la situazione. Sì. Problematiche in campo, problematiche forse anche fuori, perché ho visto un po' di nervosismo, anche in certe dichiarazioni, quindi che situazione si vive, si respira, soprattutto perché ieri c'era anche da onorare la memoria di Renato Cuneo nel 45esimo anniversario, da un punto di vista risultato l'abbiamo fatto nel peggiore dei modi. Allora, probabilmente ieri il Perugia ha incontrato la squadra più sgorbutica di questo campionato, una squadra che ormai dovremmo conoscere bene per tipo di atteggiamento, per come gioca, una squadra sparagnina, fatta di corridori, di lavoratori onesti, lavoratori del calcio. Abbiamo sciorinato una prestazione nei confronti di un avversario che gioca un calcio, il fatto di ripartenza anche loro, ma con un pressing direi asfissiante. La nostra squadra è veramente scarsa anche proprio dal punto di vista del temperamento, perché queste sono partite chiaramente fatte più che di spada, sono fatte veramente più da mazza. È una squadra che ha anche scarso temperamento. La nostra si è trovata in difficoltà durante tutto l'arco della partita. Quando va sotto del risultato va a fatica? Ma adesso a parte il fatto che uno è andato in svantaggio, a maggior ragione, subito lo svantaggio, io mi aspettavo una reazione vehemente dalla parte della squadra, non c'è stato nemmeno quello. La gente comincia a essere inferocita perché sinceramente ci si aspettava bene altro. Dopo la vittoria che c'è stata a Reggio Calabria, si aspettava chiaramente una partita di riscossa, una partita, quantomeno come abbiamo già detto anche in altre occasioni, in questi particolari momenti bisogna veramente giocare sulle certezze. E anche il misero punto ieri avrebbe fatto comunque comodo. L'ennesima sconfitta casalinga ti riporta un'altra volta nel baratro. Ora la doppia partita fuori casa sinceramente ci fa stampo meglio dal punto di vista, perché il Perugia con le difficoltà di quest'anno saranno, come per l'anno scorso, le partite più difficili saranno proprio quelle in casa, dove uno deve imporre il proprio gioco, dove deve imporre chiaramente la qualità e dove devi cercare di vincere le partite. Il Perugia quest'anno è veramente disarmante sotto tutti i punti di vista, l'analisi che ha fatto Danilo spietata, ma è proprio quello che si è visto. Non possiamo veramente accampare attenuanti di nessun tipo, perché la squadra tra l'altro è anche priva di temperamento. Perché ci sono delle situazioni nel calcio dove se gli uomini che tu hai a disposizione hanno qualcosa in più da mettere, ce lo mettono e tu ieri magari la partita non la perdevi, è importante a volte comunque riportare a casa anche un misero punto. Il misero punto in situazioni di classifica come queste fanno. Se ci sarà poi un'eventuale evoluzione, l'evoluzione verrà più avanti. Perché ne avresti tolti due al Cittadella, no? Più che altro. No, ma è stato veramente brutto, brutto. L'epilogo di ieri è stato un epilogo veramente pessimo sotto tanti punti di vista. Quello che manca a questa squadra, che mi aspettavo ci fosse anche un pochino più di cattiveria, un pochino più di volontà, anche troppo poco, veramente troppo poco. Veramente troppo poco. Da cosa si può ripartire, Danilo? Perché oramai la situazione, abbiamo detto tante tante volte, è sportivamente drammatica e quindi si fatica anche ad impostare un certo lavoro a settimana, lavorare con un certo spirito. Da cosa si può ripartire in vista della trasferta di Frosinone? Perché si affronta, se non sbaglio, l'attacco più forte contro la difesa più scarsa, dico male? Sì, in questo caso i numeri suggerirebbero di rimanere a casa, però potrebbero anche il punto di penalizzazione. Però Reggio Calabria, Docet... Cioè sulla carta era più difficile quella di Reggio che... Beh no. Che in Cittadella, dico. Ah, con Cittadella, sì, perché ha ragione un po' Roberto quando dice che forse fuori casa diciamo che questo gioco di Castori che vuole sfruttare gli spazi sulle ripartenze con questi lancioni lunghi su cercare la profondità, l'uomo libero smarcato che ci ha dato molto a Reggio Calabria Qualcosina ce lo potrebbe dare anche a Frosinone perché non so se avete visto, io ho visto un po' gli highlights anche la partita indiretta del Frosinone a Cosenza il gol che ha subito l'ha subito proprio in questo modo il Frosinone cioè su una ripartenza lunga in cui Mero l'ha bruciato l'ormai anzianotto capitale Lucioni e ha segnato. Quindi sarebbe da sfruttare questo tipo di ripartenze però il Frosinone, secondo me grosso, che è molto maturato rispetto al grosso che criticavo quando stavo a Verona e un pochino anche il primo anno di Frosinone è maturato e non ripeterà l'errore che ha fatto sa benissimo come gioca il Perugia quindi al limite, dico al Frosinone anche un pareggio col Perugia potrebbe stare anche bene perché è primo in classifica non era certo partito per andare in Serie A diretto però Frosinone puntava a un playoff onorevole quindi io non credo che farà l'errore di Inzaghi di cercare di andare subito in vantaggio per poi sfruttare le ripartenze perché Inzaghi gioca così la regina è data testa bassa in attacco tutto il tempo esatto, trova difficoltà quindi non sarà facile trovare questi spazi e poi fondamentalmente invece il Frosinone davanti a questi giocatori giovani di cui avevo parlato anche quest'estate, inizio trasmissione che mi stanno dando soddisfazione nel senso che io l'avevo visti bene hanno confermato le tue impressioni sì, parlo di Moro che anche lui ha tre gol, il centro avanti parlo di Caso che è un contropiedista attenzione perché se noi ci sbilanciamo sui calci d'angolo tanto per dire su quelle situazioni ci hanno gente come Caso l'altro che era Colchievo, Garritano ma Caso in particolare è una scheggia e quindi è un giocatore che Goretti in un'intervista rilasciata a un sito specializzato che era il direttore sportivo del Cosenza ha detto che sicuramente andrà in Serie A al di là di se ci vada col Frosinone o meno e poi c'è Mulattieri che dopo un periodo di appannamento nel girone di ritorno di Crotone ha ricominciato bene ha segnato in gol a Cosenza quattro gol ha fatto Trenafatti-Moro e poi segnano tantissimi a Frosinone quindi è stato bravo è una partita da prendere con le molle che sulla carta sembrerebbe chiusa come pronostico però però abbiamo visto siamo andati a vincere a Reggio e a perdere in casa con il Cittadella oltre al fatto l'unica nota positiva della partita di ieri e la partita di Reggio Calabria è stato questo ritorno di forma di Gori che anche ieri ha salvato almeno due gol perché ha fatto due parate una il secondo tempo poco prima del raddoppio e un'altra il primo tempo anzi due perché c'è stata la punizione all'ultimo minuto e il colpo di tacco di Varela da poco all'improvviso è riuscito ad alzarla su e quindi almeno questo il portiere sembra ritrovato il problema è che quando il migliore in campo è il portiere spesso non è un benissimo segnale ma se comincia a sbagliare anche il portiere è finita è finita davvero davvero la fortuna è che il portiere nel momento in cui è particolarmente impegnato tira fuori il meglio di se stesso si tra i pali si muove bene il portiere quando è impegnato gioca gioca meglio piuttosto che subire in tiro massimo lui la partita lo rende sicuramente quando il portiere è sotto tensione riesce in teoria a giocare meglio poi sai Roberto conta molto la prima parata per un portiere è un buon portiere Gori è un buon portiere non è finora dimostrato insomma che non puoi certo imputare a Gori le risultanti dei tuoi risultati Perugia è disarmante sotto tutti i reparti e sotto tutti i punti di vista la partita di ieri è stata veramente la cartina di tornasole del campionato finora disputato quindi adesso la domanda Per quanto riguarda invece i singoli io ti volevo chiedere ancora rimangono esclusi Angellerosi però la difesa non dà garanzie siamo comunque contati andiamo a Frosinone senza Iannoni che aveva cercato di dare un po' di continuità a Castori davanti c'è un Di Carmine che assolutamente un solo gol all'attivo è troppo poco dobbiamo recuperare assolutamente degli elementi non lo so bisogna agire anche di psicologia bisogna agire cosa faresti in queste situazioni perché davvero abbiamo problemi carenze in tutti i reparti no è il reparto che sinceramente mi preoccupa di più partendo dal presupposto che non mi aspettavo ieri veramente da parte di Sgarbi insomma che il tuo uomo di riferimento ti usa come perno si gira si l'ha usato l'ha girato quelle cose le fatemmi a Roma a Roma chi? scusami Abra ma ma in Serie A o in campionati importanti insomma le coppie a parte questo insomma quello che più mi preoccupa del Perugia è la qualità del gioco che esprime il centrocampo dall'inizio del campionato abbiamo un centrocampo che non è né propositivo né di qualità nel difendere quindi la squadra subisce una difficoltà continua durante tutto la durata della gara cioè un centrocampo che non propone che non possiede palla che gioca solamente sul rilancio ma il rilancio a volte è complicato bisogna averci anche il tempo giusto per trattenere la palla hai avuto la sensazione che facciamo lanci sempre troppe volte anche senza criterio alle volte senza criterio a volte la palla va tenuta a volte va ragionato insomma l'idea anche della velocità della ripartenza fatta con due tre passaggi a volte comunque va ragionata bisogna prendere il tempo anche per organizzarla per garantire comunque anche a quelli che stanno davanti ad avere insomma l'idea anche del movimento che bisogna esprimere per andare a ricevere la palla cioè non è l'idea del butta la palla sullo spazio vuoto bisogna anche agli attaccanti il tempo di organizzarsi per andarla a prendere la palla in questo momento noi abbiamo un centroavanti che esprime un tipo di calcio che non va bene per questo tipo di squadra che non va bene è Di Carmine un giocatore che gioca se sollecitato in un gioco probabilmente diverso dove bisogna magari cercare di sfruttarlo quando giochiamo con una difesa un pochino con una difesa avversaria un pochino più affollata quando la squadra comunque esprime una pressione in questo caso finora la coppia d'attacchio Melchiorri-Strizzolo sembrerebbe forse quella meglio meglio organizzata però però veramente c'è una pochezza è veramente troppo poco il centrocampo io veramente non riesco non trovi soluzioni no ma ha detto bene Danilo noi non ci abbiamo purtroppo non ci abbiamo un metronomo una persona né un trequartista cioè noi abbiamo fatto la corsa adesso non me ne voglia il calciatore ma abbiamo fatto la corsa tutta l'estate per prendere uno come Luperini che è sinceramente troppo poco questo campionato il campionato delle serie B esprime una qualità esprime una qualità veramente alta io mi aspetto dal calciatore che come ha detto giustamente Danilo manco difende perché se a un certo momento della partita mi trovo in difficoltà io a me mi hanno insegnato che quando sono in difficoltà o perché trovo l'avversario più forte di me o perché non sono condizione o perché in questo momento non riesco a trovare gli spazi i movimenti giusti almeno difendo almeno mi rendo disponibile per fare in modo di contrastare l'avversario questo non c'è quindi è un centrocampo in assoluta sofferenza ed è un centrocampo organizzato malissimo e l'allenatore c'entra poco perché gli elementi a disposizione non garantiscono un buon assortimento a volte quando le squadre sono male assortite per i giocatori che in questo momento dispone il Perugia è un centrocampo diciamo che manca di alcune figure così scadente così scadente nel complesso erano tanti anni che non vedevo specialmente per la serie B che esprime veramente grossi contenuti cioè un centrocampo così scadente erano anni che non si vedeva troppo poco troppo poco Danilo siamo già agli ultimi cinque minuti della nostra puntata ti chiedo abbiamo quattro punti dalla salvezza diretta in questo momento noi a sette la salvezza diretta è undici c'è il Pisa perché i sconti diretti chiaro situazione non ancora compromessa con quel gap che è irrecuperabile però insomma bisogna cominciare a fare anche i conti su questo e soprattutto tu hai evidenziato un altro aspetto sul tuo editoriale cioè il fatto che il Perugia attualmente non ha sostituito il direttore sportivo Giannitti e il direttore sportivo è quella figura che tra fine novembre e dicembre comincia a impostare il mercato di gennaio ma già da adesso esatto perché vanno in giro a vedere giocatori quindi come si vuole approcciare il Perugia anche qualora arrivassimo con poco scarto di punti oppure addirittura in zona play out anche meglio al mercato di gennaio cioè come si vuole approcciare dico io ah non lo so io l'ho scritto vedo che hai letto l'editoriale che Valdini che ieri sera era presente la domenica sportiva posso fare un inciso dopo ha detto quando è andato via ha parlato di famiglia e le famiglie sai quando vengono si sparpagliano ognuno va per conto proprio come sta succedendo a Perugia la responsabilità maggiore è del capofamiglia e il capofamiglia sta veramente facendo peggio del peggio perché altri anni ha fatto peggio ma questo pensa di risolvere la cosa andando in panchina anche come a Muleto perché aveva vinto a a Reggio a Reggio ma non si vince andando in panchina le partite si vince con i giocatori gli allenatori ne sono venuti due neanche neanche scarsi perché hanno vinto campionati nella loro carriera sia sia Baldini Castori che Baldini che Castori quindi non credo che è l'area di Perugia che le ha fatte rincretinire il problema è che ci sono difficoltà enormi perché la rosa non è competitiva abbiamo giocatori tecnicamente la maggior parte qualcuno c'è ma insomma non all'altezza e tecnicamente magari costretti a giocare ho parlato di Bartolomei fuori ruolo noi dobbiamo assolutamente io lo ripeto a me non piace a me piace il 4-3-3 quindi piace il gioco fluido ma in queste situazioni solo il 4-4-2 può essere una soluzione dobbiamo assolutamente rinforzare le fasce che sono diventate il nostro punto debole terra dei conquisti golli con il Como golli con il Suttirol golli tutto lo stesso modo allora facciamoci giocare perché ce le abbiamo perché le abbiamo abbondato in giocatori di fasce come in attaccanti no facciamoli giocare tutti e quattro facciamo giocare Pazzo e Casasola a destra nel 4-4-2 uno fa la fase offensiva si può anche intercambiabili dall'altra parte lì si è Beghetto ci sono tutti e quattro in mezzo due due lottatori Luperini in questo momento viene a pensare a Juan e a Bartolomei infatti Luperini l'hanno fatto giocare ieri proprio perché si sperava che ci fosse quel momento di qualità in più Danilo Luperini secondo me invece quando il Perugia perdeva palla lui si fermava a Cittadella poi mancavano 4-5 giocatori infatti a Reggio Calabria a Reggio Calabria Luperini ha giocato? no ecco e allora vedete senti qual era l'inciso che volevi fare no l'inciso più importante quelle cose che dice Danilo chiaramente sono sottoscrivibili tutte ma noi dobbiamo arrivare quindi a gennaio sì il direttore sportivo dov'è? cioè il direttore sportivo a parte che credo che ci sia un obbligo per le società di avere un uomo che disponga comunque della capacità ad affrontare il mercato cioè il direttore sportivo è anche quello che quando lo sceglierai se ce la faranno a sceglierlo se il direttore sportivo accetterà le condizioni di questa società è anche l'uomo che ti porta ai giocatori in teoria dovrebbe avere nella sua faretra le frecce per le frecce da innestare in questo impianto di squadra che in questo momento è un impianto che non funziona per niente per niente l'altro canto Roberto abbiamo perso otto partite su undici qualcosa vorrà pur dire ragazzi siamo arrivati alla fine c'è il nostro regista che già mi faceva segnare da un po' di tempo che abbiamo finito il nostro tempo chiaramente ci ritroviamo prossima settimana per parlare della gara di Frosinone speriamo bene speriamo davvero si lo dico velocemente dopo Frosinone c'è un'altra trasferta a Modena e poi dopo la sosta arriviamo in Genova ma chissà che lontano dalle mure del Curi possiamo fare meglio come abbiamo detto al Genova al Genova al Curi il Genova fa i punti tutti fuori casa perché in casa Blestino è come però intanto abbiamo due trasferte pensiamo a queste due trasferte ragazzi io ringrazio te Roberto ringrazio a te Danilo grazie a te Nicolo continuate a seguirci su Facebook e Youtube canale 11 del digitale terrestre su Rete Sole vi diamo appuntamento prossima settimana buona serata a tutti